fratelli estrali tutti ben ritrovati ci prepariamo alla trentatresima domenica dell'anno liturgico la penultima tappa del nostro cammino domenica prossima infatti nella trentaquattresima domenica celebreremo la sonetà di cristo re e signore dell'universo di colui che ci attende alla porta del paradiso di colui che morendo risorto il terzo giorno è salito al cielo a prepararci un posto ecco allora che siamo invitati a fissare il nostro sguardo veramente verso l'incontro verso la venuta del signore diciamo domenica scorsa coltivare il desiderio dell'attesa non stancarci di attendere colui che viene perché viene per la nostra gioia in questo tempo soprattutto in queste ultime domeniche siamo stati educati direi quasi forgiati dal fuoco della parola allenati a fissare lo sguardo e il cuore verso ciò che è giusto nobile puro amabile onorato quello che è virtù e merita l'ode e questo però ha chiesto di rinunciare a quanto ostacola l'obiettivo il risultato è la battaglia della fede il combattimento tra il coltivare i grandi sogni i grandi ideali il grande sogno che dio ha su ciascuno contro tutti quelli piccoli sogni illusioni che talvolta il demonio ci mette in mezzo pur di ostacolarci nell'esaudimento della volontà di dio a noi non stancarci mai di fissare il bene e di arrivarci pian piano non importa se talvolta il male ci fa lo sgambetto l'importante è non perdere mai il desiderio di andare oltre non perdere mai di tenere fisso lo sguardo lì dove dio ci attende e ci attende col sorriso con la sua bontà con la sua misericordia questo allora e quanto ne abbiamo cercato di fare durante questo anno liturgico un'autentica palestra di verità e di vita e ora giunti al termine ci prepariamo a raccogliere quanto abbiamo seminato per offrire al signore il frutto del nostro lavoro e pazienza se talvolta si tratterà solo di briciole l'importante è che siano briciole d'amore domenica scorsa vi accennavo la parabola delle dieci vergini ci ha ricordato che l'attesa può essere contraddistinta da saggezza e da stoltezza dipende quanto siamo capaci di custodire il desiderio dell'attesa dell'avvenuta del ritorno del signore una vigilanza che non viene chiesta e vissuta con le mani in mano ma attraverso la nostra operosità quell'olio di riserva di cui tanto abbiamo tutti bisogno e che ci serve per compiere l'ultimo passo per incontrare il signore bene spiega oggi la prima lettura tratta dal libro dei proverbi di come poter vivere l'attesa la donna in lei confida il cuore del marito la donna si procura lana e lino li lavora volentieri con le sue mani apre le sue palme al misero e frutto delle sue mani le sue opere la lodino alle porte della città e proprio l'impegno quotidiano ordinario feriale direi quasi casalingo che rende forte una donna e dico casalingo non nel senso che la donna va rinchiusa in casa ma nel senso di far cogliere la quotidianità dell'attività umana la donna forte e con lei che si rimbocca le maniche e che traffica i talenti ricevuti con gioia con fiducia con entusiasmo ecco allora che il salmo che si farà preghiera direi canto dopo questo primo testo dirà beato chi teme il signore beato che si lascia da lui amare e lo ama beato perché dalla fatica delle tue mani ti nutrirai sarai felice e avrai ogni bene nulla dunque perde colui che si affida a dio che traffica i doni da lui ricevuti ed ecco il tema del vangelo dedicato proprio alla parabola dei talenti in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli questa parabola avverrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni a uno diede cinque talenti a un altro due a un altro uno secondo le capacità di ciascuno poi partì innanzitutto vediamo quest'uomo padrone che affide i suoi beni ai suoi servi è un atto di fiducia è un atto di responsabilità è bello questo gesto quel padrone è dio che affida a ciascuno di noi i suoi beni i suoi i talenti siamo guardati con da dio con simpatia e fiducia dio ha fiducia di ciascuno di noi e non fa preferenza alcuna non è perché da cinque talenti a uno che ritiene l'altro più o meno importante ma riconosce la capacità di ciascuno e da ciascuno ciò che uno può portare pensate solo se guardiamo sopra un tavolo a tre bottiglie una contiene cinque litri una due e una un litro ciò che conta che tutte e tre siano colme e colma quella da cinque quando ci saranno dentro cinque litri e colma quella da un litro quando all'interno ci sarà un litro ecco la pazienza la fiducia la capacità di dio di affidare a ciascuno secondo le proprie capacità non si tratta di guardare agli altri con gelosia ma di guardare a se stessi con gratitudine e lode per quello che dio ti ha donato altrimenti vivremo sempre con tristezza e malinconia come se l'erba del vicino fosse sempre più bella della nostra i primi due vanno subito a investire ciò che hanno ricevuto il terzo dice il testo va e nasconde quell'unico talento una volta che torna il padrone ecco che i primi due arriveranno ecco signore tu mi hai affidato cinque talenti io te ne restituisco altrettanti e così farà il secondo e sentite cosa risponde il padrone bene servo buono e fedele sei stato fedele nel poco ti darò potere su molto prendi parte alla gioia del tuo padrone alla gioia prendi parte alla gioia questa è la ricompensa più grande è la ricompensa di partecipare alla gioia ma ora guardiamo a questo terzo servo signore so che sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato raccogli dove non hai sparso ed ecco la ragione per cui lui ha nascosto il talento ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra la paura hai mobilizzato questo terzo servo carissimi amici se noi ripensiamo un istante all'azione di questo padrone questo ci riporta al libro della genesi quando dio crea ogni cosa e affida all'uomo il compito di coltivare e di custodire state attenti all'ordine di questi due verbi coltivare e custodire la terra coltivare e custodire i talenti tu se vuoi custodire devi coltivare non puoi invertire l'ordine di questi due verbi di queste due azioni i primi due servi hanno coltivato e quindi hanno custodito ritrovandosi moltiplicati i suoi beni il terzo servo ha voluto custodire ma alla fine non ha coltivato nulla ha perso tutto perché chi tutto vuole nulla stringe dice il detto sembra quasi che questo terzo servo abbia quasi voluto salvarsi da solo uscendo dall'obbedienza richiesta dal padrone è un po' l'esperienza che è capitata ad adamo ed eva i quali si sono lasciati ingannare dal serpente intimoriti che dio volesse togliere loro la gioia e la vita ma dio non toglie dona e dona sempre in sovrabbondanza ecco allora questo terzo servo immobilizzato confuso dalla paura ingannato da un pensiero che non è di dio e non viene da dio l'attesa del signore va vissuta certamente con vigilanza lo dicevamo anche domenica scorsa ma è una vigilanza che chiede di essere vissuta con impegno e responsabilità chiede di generare qualcosa di nuovo allora evitiamo di lasciarci prendere dalla paura come questo terzo servo e impariamo a trafficare il talento che dio ci ha dato non si tratta di moltiplicare i beni che abbiamo ne abbiamo già troppi e poi non dimentichiamo mai il richiamo di gesù nei riguardi di marta 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 ti affanni per troppe cose maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta il talento più bello più prezioso che ne abbiamo ricevuto è l'amore di dio e l'amore con il quale siamo stati rivestiti un amore misericordioso questo è il talento più grande questo è il talento che siamo chiamati a trafficare talvolta vedete tanti progetti personali e con tutto rispetto tanti progetti pastorali delle nostre comunità sono fondati sul nulla perché sono fondati sulle parole ma non sull'esperienza e l'esperienza dell'amore di dio quella che siamo chiamati a portare agli altri ascoltate cosa scrive giovanni quello che abbiamo udito quello che abbiamo veduto con i nostri occhi quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita noi lo abbiamo veduto e di ciò diamo testimonianza della testimonianza la testimonianza al centro l'esperienza con l'amore di dio non tante parole non tante opere ascoltate cosa dicono dice gesù ai discepoli quando gli domandano che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di dio e gesù risponde questa è l'opera credere in colui che gli ha mandato i discepoli domandano cosa dobbiamo fare per compiere le opere al plurale gesù risponde una è l'opera una credere cioè fare esperienza di questo amore e se tanti progetti personali e pastorali naufragono saltano non danno nulla è proprio perché non partono dall'esperienza misericordiosa di dio questa è l'annuncio che siamo chiamati a portare ed è questo che attrarrà come ricorda spesso papa francesco coloro che ci guardano non le nostre parole ormai siamo ubriachi di parole e sono parole vuote l'amore di dio dunque è il talento principale e accanto al talento dell'amore di dio sgorgeranno allora i talenti che dio ci ha dato le nostre qualità gli amici il creato le occasioni le opportunità ma se manca questo amore sorgivo tutto il resto cade nel nulla pensate al dono e al talento della parola seminate ai nostri cuori dei sacramenti e allora facciamo in modo di evitare di lasciarci immobilizzare dalla paura anche dalla vergogna delle nostre fatiche fragilità ci sono le superiamo insieme con l'aiuto di dio ma ci sono nulla ci deve fermare fatica fragilità pigrizi invidie gelosie lasciamo stare tutto questo e fissiamo lo sguardo al signore e corriamo verso di lui lieti e grati di tutto ciò che lui ci ha donato perché ciò che conta è far sì che ogni nostra azione e ogni nostra parola sgorghi dall'amore misericordioso di dio dall'abbraccio benedicente del signore questo è il modo più bello di andare avanti e se mai sbagliassimo semplicemente diciamo perdonami signore e porteremo la gioia di essere stati per l'ennesima volta perdonati fosse anche 70 volte al giorno di fronte a questa parola così carica di entusiasmo di gioia di fiducia di responsabilità che cosa rispondiamo come sempre lo faccio con due preghiere la prima è la colletta che noi recitiamo dopo il canto del gloria e che fa da sintesi ai messaggi biblici di oggi o padre che affidi alle nostre mani le meraviglie della creazione sentite questi talenti e i doni della grazia rendici servi operosi e vigilanti perché facciamo fruttare i nostri talenti per entrare nella gioia del tuo regno e la gioia il nostro risultato ciò che ci conta e la gioia il figlio minore tornerà a casa ma il figlio maggiore non vorrà partecipare alla festa del padre vedete come tutto si torna e io cosmi rispondo lo faccio con quest'altra preghiera ma prima di tutto voglio augurare a voi tutti una buona e felice domenica e settimana signore gesù lode a te che nella tua bontà mi hai affidato il dono del creato della vita degli amici il dono dei sacramenti ma soprattutto lode a te mio signore per il dono del tuo amore per me nell'attesa del tuo glorioso ritorno fa che sappia coltivare e custodire con gioiosa fierezza i doni della tua bontà aiutami a dar valore alle opportunità che ricevo ogni giorno senza nulla nascondere e da nulla scappare per partecipare un giorno alla gioia del cielo dove si è andato a prepararmi un posto e vivere con te una gioia senza fine